Nel video di oggi andremo ad analizzare la seconda partita che ho giocato al torneo di Verona. Giocavo contro un candidato maestro molto giovane, nato nel 2009, si chiama Rubini Alessandro e ha un punteggio elo di 2041, quindi sicuramente un avversario pericoloso e sono particolarmente felice di questa partita, sia perché la più bella che ho giocato in tutto il torneo è durata solamente 23 mosse, sia perché sono riuscito ad entrare nella mia preparazione. Ancora una volta, come a Budapest, sono riuscito a vincere una partita grazie ad una preparazione che ho trovato in alcuni corsi realizzati da dei grandi maestri armeni in inglese su una piattaforma che si chiama ChessMood. Ve ne avevo già parlato in passato, è una piattaforma che fa corsi di tutti i tipi, dall'apertura al mediogioco al finale, e i loro corsi sulle aperture sono veramente fenomenali e per integrare certe varianti alle aperture che gioco già io è veramente eccezionale. A Budapest all'ultimo turno sono riuscito a battere il maestro internazionale Varadi Victor, partita che mi ha permesso di fare la norma di maestro e quindi di diventare maestro. E anche stavolta, ironia della sorte, sempre con la siciliana chiusa sono riuscito a cavarmela molto bene. Quindi sicuramente è stato un investimento molto azzeccato che mi sta ripagando. E se anche voi volete accedere a tutti questi corsi di ChessMood, loro propongono degli abbonamenti mensili oppure annuali che vi permettono di sbloccare tutti e quanti i corsi che sono più di 500 ore di lezioni con dei grandi maestri. Se la cosa vi interessa qui sotto in descrizione vi lascio il link con lo sconto del 20% su tutti questi abbonamenti e devo dire che merita veramente tanto. Cioè a me sta aiutando parecchio e quindi anche per i giocatori avanzati, prime nazionali, candidati maestri, seconde nazionali è veramente la svolta. Perché è stata la svolta per me che sono adesso maestro e anzi mi ha aiutato a diventare proprio maestro. Quindi figuriamoci per i giocatori con un elo un pochino più basso. Poi ci sono corsi di tutti i livelli quindi anche i giocatori alle prime armi possono trovare un sacco di spunti. L'importante è conoscere l'inglese perché sono comunque dei corsi in inglese. Detto ciò iniziamo subito con l'analisi della partita. A Budapest Varadi Victor mi giocò a pedone di 6. Stavolta invece mi hanno giocato cavallo c6, un'altra delle mosse più giocate. Quindi vediamo come si può evolvere la situazione. Quelli di ChessMood qua propongono alfiere b5 e dopo cavallo d4 il bianco sembrerebbe insomma dover perdere un altro tempo per salvare l'alfiero in b5 quindi la coppia degli alfieri. Nulla di tutto ciò però noi continuiamo con cavallo f3 quindi diamo più importanza allo sviluppo dei pezzi. Dopo cavallo per b5 e cavallo per b5 abbiamo due cavalli fuori mentre il nostro avversario no. È vero che questo cavallo può essere attaccato con pedone a6 come è successo tra poco in partita e quindi vediamo effettivamente cosa può succedere. Il nero gioca a pedone a6 mossa normale, il bianco gioca con d4 e dopo c per d4 l'idea è catturare con la regina. Ora che il cavallo in b8 non è più presente il nero non potrà andare ad attaccarci questa regina facilmente. Quindi è vero abbiamo tirato fuori la regina molto presto in apertura però il nostro avversario non può attaccarcela sviluppando i propri pezzi e di conseguenza non è un grosso problema. Pedone a6 cavallo c3 abbiamo perso un tempo con il nostro cavallo ma se guardate bene sulla scacchiera noi abbiamo sviluppato ben tre pezzi mentre il nostro avversario 0 quindi il bianco è in vantaggio di sviluppo in cambio di questa coppia degli alfieri. La partita prosegue con cavallo f6, alfiere g5 quindi sviluppiamo tutti i nostri pezzi molto velocemente pedone a6 arrocco lungo. Notate come il nero ha tirato fuori solo il suo cavallo e io ho già tirato fuori tutti i miei pezzi tranne la torre in h1 che nel giro di una mossa può raggiungere il centro della scacchiera. Fino ad ora sono ancora in preparazione, il mio avversario gioca alfiere 7 mossa normalissima e qua arriva pedone a5. Devastante! D per e5, donna per e5, la torre attacca la regina. Piccola parentesi, una variante molto simile può nascere da cavallo f3. Io tra l'altro gioco molto spesso questa linea dove il bianco cattura subito in d4 e su cavallo c6 va ad inchiodare il cavallo attaccante. Abbiamo alfiere d7, eliminiamo il cavallo attaccante, cavallo c3 e come prima sviluppiamo i nostri pezzi molto velocemente. E la posizione è molto simile a quella che è capitata in partita con l'unica differenza che qua dopo alfiere 7 abbiamo un pedonino a6 e l'alfiere ancora in c8. Quindi abbiamo migliorato ulteriormente la situazione. Anche perché qua dopo pedone e5, d per e5, donna per e5, se l'alfiere del nero fosse stato in c6, il nero avrebbe potuto giocare con donna b8. Cercando il cambio delle regine, il nero non avrebbe avuto nessun tipo di problema. Con la presenza però dell'alfiere in c8 e del pedonino a6, quindi al posto di pedone a7 e alfiere c6, questa mossa non è presente. Quindi adesso il nero si trova già più in difficoltà. La donna è sotto attacco e ad esempio donna b6 che potrebbe sembrare una mossa naturale già perde. Il bianco gioca con cavallo e4. Tutto questo è proposto nel loro corso. La questione è che adesso la pressione su f6 è tantissima, ben tre pezzi attaccano il cavallo. E su cavallo per e4 andiamo prima a catturare l'alfiere in e7. A volte minacciamo torre d8, il cavallo è in presa. Su re per e7 catturiamo il cavallo. E ora il computer dà già un vantaggio schiacciante al bianco. Parliamo di più tre. Per quale motivo? Perché il re in e7 è troppo esposto. E anche questo alfiere ci mette un po' a svilupparsi magari in c6. Mentre il bianco ha già i pezzi pronti per attaccare. Ad esempio su donna per f2 seguirebbe donna b4 scacco. La donna entra in d6. Donna d8 imparabile. E il bianco vince la partita. Quindi bisogna stare attentissimi con il nero. Dopo donna per e5. La donna non ha altre caselle. Quindi l'unica mossa è alfiere d7. Mossa che il mio avversario ha trovato. E qua la mia preparazione continuava con donna g3. L'idea è liberare la casella e5 al cavallo. E a quel punto ci sarebbe una pressione devastante sull'alfiere in d7. Il difensore dell'alfiere è il cavallo. Quindi al momento giusto eliminerò il difensore. E poi catturerò l'alfiere in d7. A questo punto il mio avversario trova la mossa migliore. Quindi donna a5. Arrocco corto perderebbe per via di alfiere per f6. Il nero deve ricatturare con l'alfiere perché il pedone in g7 è inchiodato sul re in g8. E a questo punto posso continuare con cavallo e4. La minaccia è cavallo per f6 scacco. Il nero è obbligato a catturare con la regina. A quel punto cadrebbe l'alfiere in d7. Quindi qui il nero potrebbe fare due cose. O ritirare l'alfiere su cui però seguirebbe cavallo e5 e l'alfiere d7 sarebbe perso. Oppure cercare di giocare il re h8 eliminando l'inchiodatura su questo pedone. A questo punto però il bianco potrebbe continuare con cavallo per f6. Il nero deve catturare di pedone per evitare di perdere l'alfiere. Ma a questo punto torre d3 il bianco prepararla a doppio e quell'alfiere cadrà imparabilmente. Perché su donna e7 per rimuovere l'inchiodatura io rinnovo l'inchiodatura con donna c7. Stavolta l'alfiere è inchiodato sulla regina. Su torre d8 torre d1 l'alfiere non può essere difeso ulteriormente. Mentre su torre g8 per attaccare la regina vado in f4, torre c8 per portare la torre a difesa dell'alfiere. Ma adesso la regina che è andata in f4 può triplicare sulla colonna d con donna d2. Quindi questa era tutta la mia preparazione. Però come vi dicevo prima il mio avversario è stato bravo. Dopo donna g3 non ha giocato a rocco che è perdente ma ha giocato donna a5. E qui io proseguo con cavallo e5. A questo punto la mia preparazione diceva alfiere c6. Avevo visto questa linea qua che però non è molto facile da giocare con il nero perché comunque si espone al cambio del cavallo sull'alfiere. Quindi perderebbe il vantaggio della coppia degli alfieri. La sua struttura pedonale se andrebbe a distruggere il bianco sarebbe già pronto con i suoi pezzi per attaccare insomma la posizione del nero. Quindi ci sarebbe un'ottima centralizzazione. Qua il mio avversario gioca alfiere b5. Tenete conto che avendo tutte queste mosse in preparazione io ho mosso l'ampo fino ad adesso. Avevo un'ora e 35 sull'orologio mentre il mio avversario se ricordo bene aveva circa 50 minuti un'ora. Quindi ci aveva già pensato mezz'ora o 40 minuti per trovare tutte queste mosse che erano corrette. E alla fine è arrivato alfiere b5 che è un errore. Io sapevo che era un errore perché il computer non me la proponeva durante la preparazione. Quindi qua ci penso e poi gioco con alfiere d2. Con la doppia minaccia di catturare in g7 dopo attacco alla torre il pedone in f7 ma anche di andare a muovere il cavallo magari in d5 per attaccare la regina in a5. Puoi cercare dei doppi in c7. Insomma ci possono essere molti tatticismi nell'aria. A questo punto ad esempio arrocco corto perderebbe proprio per via di cavallo d5. Attacco la regina, attacco l'alfiere e su qualcosa come donna d8 posso giocare cavallo per f6 scacco, alfiere per f6 e poi proseguire con alfiere b4. Attacco la regina e la torre quindi quantomeno guadagnerei la qualità. A rocco corto non è possibile il mio avversario gioca a pedone g6 per difendere il pedone in g7 e sfrutta il fatto che cavallo d5 è interessante ma non riesce a funzionare. Qua ci ho pensato molto perché effettivamente cavallo d5 attira molto. L'unico problema qui è che dopo donna per a2 il nero sta minacciando matto in a1 quindi devo essere molto rapido. E quello che ho calcolato è stato cavallo c7 scacco che è un doppio tra rai torre. Ovviamente la torre non la potrò catturare perché prenderei matto però in sostanza il re del nero può andare in d8 oppure può andare in f8. Su rai d8 quello che avevo calcolato io è cavallo per f7 scacco che però si rivela perdente. Infatti poi non ho giocato questa variante. Tra l'altro molto carina perché fa un altro attacco doppio e la regina di scoperta difende il cavallo. A questo punto il re del nero è costretto ad andare in c8 ed è molto buffo perché potrei catturare entrambe le torri ma non posso mai perché seguirebbe donna a1 scacco matto. E qui l'unico modo per evitare il matto è cercare una via di fuga per il re. Quindi nel calcolo ho pensato all'alfiere g5 oppure alfiere f4 insomma una mossa che liberasse questa casella. L'unico problema è che il nero può giocare con cavallo e4 mi attacca la regina mi toglie la casella di fuga in d2 e la minaccia di matto è rinnovata. Quindi questa linea non funziona. Non mi sono però fermato qui con il calcolo oltre a cavallo per f7 scacco ho pensato a cavallo per e6 che purtroppo ancora una volta non funziona. Perché su f per e6 l'idea era quella di fare uno scacco doppio con l'alfiere e con la torre re c8 perderebbe per donna c3 scacco, re b8 scacco, alfiere b6 scacco matto. Quindi avevo fiducia nella variante. L'unico problema qua è che dopo alfiere a5 scacco re scappi ne8 e non ho nessun modo forzante di proseguire la variante. Di conseguenza ho dovuto rifiutare anche quest'idea. A quanto pare alfiere g5 scacco portava in vantaggio il bianco su re per c7 seguirebbe cavallo per g6 scacco di scoperta con la regina e quando il re va in c8 cavallo per e7 è scacco matto. Il nero quindi non può catturare in c7 deve andare in c8 e qua c'è una variante completamente folle. Io non ho visto alfiere g5 però ve la mostro perché è molto carina. Abbiamo alfiere per f6 la donna entra con scacco ma il re scappa in d2 torre di 8 scacco il cavallo para. E ora il bianco sta meglio perché ci sono tutti e quanti i pezzi in presa. Era molto difficile da vedere non ho visto nulla di tutto ciò. Bisognava calcolare tra l'altro anche re f8 dopo cavallo c7 scacco e qua io avevo previsto alfiere h6 scacco. Anche qua era un casino allucinante perché re deve scappare in g8. Adesso è vero ho creato questa via di fuga in d2 quindi posso catturare la torre però dopo donna 1 scacco re d2 il nero può catturare in b2. E ho dei problemi perché l'alfiere sta arrivando in b4 il mio re è troppo esposto e non posso mai giocare con donna b3 per cercare il cambio delle regine perché mi cade il cavallo in e5. Il nero però deve stare molto attento deve giocare donna per b2. Una mossa come ad esempio cavallo e 4 scacco infatti andrebbe a perdere. È vero il nero sta facendo un attacco doppio tra re e regina però il bianco sposta il re ed è vero che ha la regina sotto attacco ma è anche vero che pure il nero ha questa regina in presa. Quindi il nero cos'è che potrebbe pensare regina persa persa per persa almeno andiamo a mangiare una torre dopo torre per d1 cavallo per g3. Alla fine però di tutti questi cambi di tutti questi calcoli il bianco un pezzo di più quindi andrebbe poi a vincere la partita. Tornando però alla nostra posizione dopo pedone g6 non ho giocato quindi con cavallo d5 perché in tutte queste complicazioni il nero riuscirebbe a svegnarsi l'ho giocato con re b1 con l'idea sempre di riproporre la minaccia cavallo d5 difendendo però stavolta il pedone in a2. Quindi vedete in una partita di scacchi quanta complessità c'è dietro magari una mossa che sembra banalissima e insignificante come ad esempio re b1 cioè c'è veramente un mondo completamente a sé pieno di varianti super complesse con tutti i pezzi in presa quindi per capire veramente le partite bisogna sempre che ci sia qualcuno che vi spieghi un po' tutti i ragionamenti che ci stanno dietro. Quindi questa è l'idea di re b1 alla fine il nero gioca con donna b6 quindi si toglie da questa diagonale pericolosissima e ora sfrutto il fatto che la regina è in b6 per attivare il mio alfiere attaccando la regina che in questo momento torna in a5 quindi così facendo ho guadagnato in maniera totalmente gratuita due mosse perché dopo pedone g6 la posizione era questa ma dopo re b1 donna b6 alfiere 3 donna a5 otteniamo la stessa identica posizione dove io ho giocato queste due mosse e tocca di nuovo a me. Era possibile giocare anche alfiere c5 qua in partita io avevo previsto alfiere per c5 donna per c5 donna f4 attaccando il cavallo che non può muoversi perché seguirebbe donna per f7 scacco matto comunque il re del nero sarebbe molto in pericolo e dopo donne 7 io avevo previsto qualcosa come torre 1 con un vantaggio molto comodo oppure pedone h4 per prepararsi proprio in vista dell'arrocco corto del nero per poi in certe posizioni andare ad attaccare con la spinta di rottura in h5. A quanto pare però era ancora più forte giocare con donna g5 questa mossa non l'avevo pensato in partita con l'idea di attaccare il cavallo e quando questo cavallo si sposta posso muovere il mio cavallo da e5 attaccando l'alfiere in c5 quindi questo è un attacco doppio. Il nero non può catturare l'alfiere in e3 perché seguirebbe donna e7 matto e quando il nero va a catturare il mio cavallo perde l'alfiere in c5 che è il protettore delle case alle scure quindi otterrei una posizione completamente vinta. In partita però abbiamo donna a5 forse il mio avversario sperava in una ripetizione di mosse io però qui ho giocato con alfiere d4 quindi ho migliorato ulteriormente la posizione dell'alfiere che ora difende in tutte le posizioni il cavallo in c3 e va a giocare anche su questa fortissima diagonale facendo pressione sul cavallo in f6 a volte sulla torre in h8. Abbiamo arrocco corto e adesso iniziamo con l'attacco pedone h4 sta arrivando pedone h5 il pedone g6 è inchiodato quindi non potrà catturare su cavallo per h5 avrò torre per h5 sfruttando ancora una volta il pedone inchiodato che non potrà ricatturare alfiere c6 questo alfiere l'ho ignorato totalmente e io ho continuato per la mia strada. Pedone h5 quindi se la colonna h si apre sono veramente guai perché dopo posso dare matto molto facilmente al re del nero qui il mio avversario gioca con re g7 potevo catturare in g6 per aprire la colonna h però preferisco giocare con donne e3 e questa mossa secondo me è il colpo del ko perché oltre a minacciare un'eventuale entrata in h6 con la regina difesa dalla torre una volta che vado a catturare in g6 sto anche minacciando di intrappolare la donna in a5 con alfiere b6. La partita è proseguita con torre c8 e qua proprio arriva alfiere b6 e la donna nera ha praticamente finito le caselle l'unica mossa possibile donna b4 ma dopo pedone a3 il mio avversario abbandona perché tutte queste caselle paradossalmente sono controllate dai pezzi del bianco quindi questa regina è in trappola. Riassumendo velocemente la partita all'inizio ho dato la coppia degli alfieri in cambio di un forte sviluppo e poi grazie alla preparazione che arrivava fino a cavallo e5 sono riuscito ad ottenere un ottimo vantaggio. Qua il mio avversario ha sbagliato arriva alfiere d2 e poi dopo re b1 vado a difendere il pedone a vado a migliorare l'alfiere in d4 e poi con h4 h5 do il via all'attacco finale che termina con l'intrappolamento della regina in b4. Noi ci vediamo al video di domani dove andremo ad analizzare la partita del terzo turno e nel caso vi foste persi le analisi dei turni precedenti sul mio canale è presente una playlist contenente tutte le partite che ho giocato in questo torneo di Verona. Vi ricordo di lasciare un like per supportare questo mio lavoro e noi ci vediamo domani.